Si è conclusa con un lieto fine all'avventurosa passeggiata di un escursionista che si è ferita mentre percorreva i sentieri nei boschi di Caltrano. La donna è infatti scivolata procurandosi una brutta lesione a una caviglia, tanto che non è più riuscita a rimettersi in cammino. La sessantenne ha quindi chiamato aiuto e sul posto, guidati dalle indicazioni dell'escursionista, è arrivato il personale del soccorso alpino di Arsiero. Sette soccorritori hanno individuato la donna che si trovava a pochi minuti del sentiero principale e dopo averla stabilizzata l'hanno caricata su una barella e trasportata fino all'ambulanza. Grazie.